Oggi Antonio Enrico ha intervistato il senatore Maurizio Gasparri, presidente dell'Aggiunta per le elezioni e l'immunità. Senatore, le chiedo subito, ritiene che questo governo possa dare una sterzata, magari con il recovery plan, alla riduzione del gap tra nord e sud, pensiamo al divario infrastrutturale, allo sfruttamento della risorsa mare, al turismo? Noi ce l'auguriamo, non è un governo che abbia un orizzonte temporale immenso, alla fine della legislatura mancano due anni e poi all'elezione del Presidente della Repubblica un anno, anche meno, sarà uno snodo fondamentale. Noi in questo periodo ci auguriamo che soprattutto con l'impostazione del recovery plan che implicherà azioni pluriannali, quella quantità ingente di soldi non arriverà tutto e subito, arriverà nel tempo e arriverà quando poi ci saranno governi diversi, perché il loro impiego di quei fondi sarà spalmato negli anni. Non c'è dubbio che quindi va il piano impostato vedendo un'ottica storica dello sviluppo del Paese. La logistica, i trasporti, il mare come luogo di scambio, come autostrada a minore inquinamento anche per tutte le merci, per tutta l'attività produttiva, sono temi fondamentali. Riguarda nel sud e riguarda l'Italia che ha questa sua posizione al centro del Mediterraneo e anche la ripresa dei traffici da Suez e da altri contesti può agevolare una politica intelligente della logistica e del mare. Senatore, la politica del governo, ci immaginiamo, verrà impostata sulle riforme più urgenti piuttosto che sui ristori. Eppure come si dovrà comportare l'esecutivo Draghi con settori fortemente penalizzati? Oggi si chiamano impianti sciistici, domani potrebbero essere altri comparti. I ristori, secondo lei, devono continuare ad avere una loro importanza? Purtroppo siamo in una fase in cui bisogna sostenere un'economia che è fondamentale per l'Italia. Io mi auguro che da qui alla stagione estiva, che poi non è tanto lontana, la situazione dei vaccini e della gestione sanitaria migliorando possa ridare respiro. Però invece il turismo della montagna, che per l'Italia è importante, ha una stagione oramai compromessa, perché diciamoci la verità, anche potizzare apertura a marzo, sono le condizioni climatiche che chiudono le stagioni. Bisogna garantire a queste imprese la esistenza in vita. E perché lei pensi alla gestione delle infrastrutture, la tassazione, il riscaldamento di edifici che si stanno in montagna, non è che possono essere abbandonati a se stessi, i guasti sarebbero irreparabili. Ci sono dei costi che hanno affrontato, c'è il minor fatturato. Noi siamo contrari a una logica assistenzialistica, ma nell'emergenza i soldi di ristoro ci devono essere. Abbiamo votato uno scostamento di bilancio di 32 miliardi che va ancora impiegato. Chi ha sofferto molto durante l'inverno deve essere sostenuto con decisione. Il nuovo esecutivo pare avere una connotazione tecnica nella gestione dell'economia a livello internazionale. Lei crede che sarà Mario Draghi in persona a gestire i rapporti economici di forza in Europa e lascerà alla politica la gestione delle questioni prettamente nazionali? La politica dirà la sua su tutte le questioni, perché anche l'agenda degli anni futuri con Recovery Plan riguarderà governi che ci saranno. Draghi ha una risorsa sotto questo profilo. La sua osservazione è corretta nei rapporti internazionali, nella rappresentazione dell'Italia, nei tavoli europei, perché adesso la discussione sarà soprattutto europea. Draghi non ha rivali come possibilità di essere ascoltato. Quindi giudichiamo positivo il suo avvento anche per questo. Il che non vuol dire mettere in archivio la politica che è quella che deve poi, con la democrazia e col consenso, assumersi le prospettive del futuro. Grazie a tutti.